Un'ordinanza cautelare messa dal giudice del Tribunale di Nuoro Francesca Lucchesi impone ad Abba Noa di interrompere da subito ogni richiesta di pagamento dei conguagli regolatori relativi agli anni 2005-2011, di non minacciare gli utenti che non abbiano adempiuto al pagamento del distacco dell'utenza idrica e infine di cessare la riscossione delle somme relative a quegli atti. Secondo il Presidente regionale di Adconsum, Giorgio Vargi, sono questi gli effetti prodotti dal provvedimento emesso il 22 dicembre, ma notificato qualche giorno fa, dal giudice del Tribunale di Nuoro che ha deciso l'accoglimento dell'istanza presentata in estate dall'Associazione contro Abba Noa per contestare la legittimità dei conguagli regolatori autorizzati a suo tempo dall'autorità d'ambito. L'ordinanza, sottolinea la di Adconsum, inoltre prevede anche che per ogni singola violazione di quanto disposto dal giudice Abba Noa debba pagare una sanzione di 516 euro. Secondo il Presidente Vargi, che ha illustrato gli effetti dell'ordinanza nel corso di una conferenza stampa tenuta ad Oristano, si tratta di un provvedimento che riguarda i 720 mila utenti di Abba Noa che vale complessivamente 106 milioni di euro. Adconsum attende ora l'ordinanza definitiva, i cui tempi di emissione non si possono calcolare, ma l'Associazione dei consumatori è ottimista sulla conclusione positiva del contenzioso con Abba Noa sul fronte dei conguagli regolatori.